Sindaco possiamo dirlo, è certo presenterete il ricorso contro il referendum sulla Grande Pescara? Sì, stiamo ancora valutando, i nostri legali stanno valutando le possibilità, sono appunto molto possibilisti che ci siano le condizioni per impugnare questo decreto, ma dopo aver tra l'altro chiesto nelle settimane precedenti il rinvio, perché questa consultazione elettorale avviene all'interno di altre consultazioni, per cui anche all'interno della popolazione non c'è la possibilità e la capacità giusta per spiegare un simile evento così importante che dovrebbe interessare il nostro comune, per questo chiedevamo il rinvio, sembra difficilmente accoglibile e quindi adesso passiamo alla fase dell'impugnazione del decreto. Quindi non sono ragioni del no a prescindere ad esempio il timore di avere un'urbanizzazione selvaggia sulle colline di Spoltone? Io sono come sindaco assolutamente contrario, ma non perché voglia conservare una poltrona che tra l'altro di questi tempi è scottante per un sindaco, quindi non c'è, sono fermamente contrario rispetto al fatto che oggi la vedrei quasi come un'annessione, perché qui Pescara e Montesilvano metterebbero i cittadini e noi metteremo un territorio vasto e per fortuna ancora poco consumato e compromesso che rispetto a queste altre grandi realtà. Ma dall'altra parte condivido e laddove c'è un referendum è bene che non è che ci si oppone, è bene che ci sia discussione, però ci devono essere tutti i presupposti legislativi e la possibilità ai cittadini di informarsi e di informarli bene.